5 con 3 minuti esatti ora all'intervallo lungo Lundberg col possesso insistito poi va dalle parti di Bellinelli che ci prova ancora una volta e ancora la retina ad emettere quella sentenza del numero 3 come si sfruttano i blocchi probabilmente da quest'angolo mentre qui riapprezziamo secondo ferro per lui con Tordona che non riesce a ritrovare ritmo dall'arco così resta sul 58-56 Bellinelli prende e spara da 3 e non ha bisogno di riprendere il filo del discorso Schenghelia vediamo se se la va a giocare in post basso contro Kane Bellinelli prende e spara da 3 impressionante Marco Bellinelli triple avversario fallo subito tutto suo Marco Bellinelli lo vedi non devi cercare quel contatto perché fa il suo gioco lui lo ama hai capito? lo prende ciao 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 Grazie.